ricetta per una pasta velocissima di questa sera allora facciamo le pennette con la ricotta e la granella di pistacchi una cosa davvero semplicissima ma vi assicuro tutti saranno in tavola a mangiare senza lamentarsi perché un piatto buonissimo si fa il tempo di cottura della pasta poi mettete sull'acqua quando bolle la salate e cicalate le pennette di solito una buona pennetta 10 minuti di cottura 80 grammi a persona quello lo sappiamo facciamo una pasta ipoteticamente per quattro persone quindi 320 grammi di pasta la ricotta ne prendiamo 200 grammi la mettiamo in una bowl la schiacciamo bene con la forchetta poi aggiungiamo un mestolo di acqua dove sta volendo la pasta per rendere più morbida la nostra crema di ricotta aggiungiamo circa 30 40 grammi di granella di pistacchi abbiamo ottenuto questo condimento buonissimo scoliamo la pasta la tuffiamo nel condimento mischiamo bene portiamo in tavola e possiamo arricchire di profumo aggiungendo qualche fogliolina di basilico sentirete che bontà grazie a tutti